Non solo sport, ogni lunedì, martedì e mercoledì, dalle 11 e 15 alle 13 su PRL con Marco Pantusa, in redazione Francesco Liverio Annunciato, caricato anche dalla pagina, dal nostro profilo e con tanti capelli arriva con qualche capello in meno ma arriva in studio, arriva un campione del mondo del 1986 Pedro Pablo Pasculli, compagno di stanza mi raccontava, perché io oltre all'intervista canonica che poi caricheremo sulla nostra pagina delle interviste, del nostro sito, non solo sportpRL.com l'intervista me la sono fatta un po' da solo, una persona splendida, una persona alla mano che ha avuto l'opportunità di conoscere 5 minuti fa e che mi ha raccontato in pillole quello che è anche un'amicizia particolare con Diego Armando Maradona, compagno di stanza nel Mondiale del 1986, il Mondiale in cui consentì all'Argentina, che poi diventò campione del mondo, di passare dagli ottavi di finale con una sua rete contro l'Uruguay che poi è una sfida epica per quello che riguarda il Sud Domenica in studio a San Giovanni in Fiore, da noi a PRL, ma a San Giovanni in Fiore per un'altra grande iniziativa, devata al calcio, ne parlavo prima negli interventi iniziali calcio mondiali, ma soprattutto calcio giovanili, in tanti sognano anche qui al Silla Summer Camp di poter giocare un mondiale. Pedro Pablo Pasculli è venuto qui perché ha creduto e crede, ha rapporti di amicizia, lo spiegherà meglio poi lui, con la Silla Regia, con quello che è questo Silla Summer Camp che andrà avanti fino a fine settimana prossima. È un onore presentarvi ufficialmente, Pedro Pablo Pasculli. Buongiorno, buongiorno a tutti, per me è un grande piacere stare a San Giovanni e stare qui con voi, con tanta voglia e tanta voglia anche di insegnare anche ai ragazzi più giovani, ai ragazzini che iniziano a giocare a calcio e questo per me è un grande piacere. Approfittiamo della tua presenza, Pedro, per chiederti quello che poi è una disamina di questa prima parte dei mondiali. Cosa ne pensi della tua Argentina e cosa ne pensi delle squadre che hai visto fino a questo momento in campo? Mancano le ultime, si giocheranno oggi, poi stasera si riparte col Brasile per la seconda giornata, quindi più o meno un 80% di quelle che sono le squadre che dovrebbero vincere il mondiale le abbiamo già viste. Penso di sì, penso di sì, le squadre più blasonate le abbiamo viste quasi tutte, quindi sono quelle che possono arrivare fino alla fine, però attenzione ci saranno anche delle sorprese perché ho visto altre grandi partite, altre grandi squadre. Io con rispetto dell'Argentina sinceramente il primo tempo non è che mi è piaciuto molto, anche perché giocando con Messi a guerra lì davanti trovo un po' di difficoltà, dopo il secondo tempo ho fatto entrare a Higuain e si è visto qualcosa di meglio, Messi più libero. Con rispetto a tutte le partite del primo girone che si completeranno oggi, io penso che quella che mi ha sorpreso un po' di più è stata l'Italia, è stata l'Italia per il possesso palla che ha fatto per il calcio sudamericano o tipo spagnolo diciamo al tiki-tacca, la prima volta di tantissimi anni che vedo un'Italia che fa tanto possesso palla e poi la Germania che non è che dobbiamo scoprirla noi, è una delle candidata a vincere poi, attenzione, con la sorpresa come ho detto prima, sarà un campionato bello e divertente. Sulla Argentina qualcosa in più, Pedro, perché hai avuto l'opportunità di giocare con Diego Armando Maradona, vorrei tanto che mi facessi tu un po' una differenziazione tra quello che è Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Guarda, io penso Messi attualmente per me personalmente è il calciatore più forte che può essere adesso in giro insieme a Ronaldo, però l'ho detto sempre, non si possono paragonare, io non paragonavo mai Maradona e Messi, Maradona è il massimo, è il massimo che ha assistito nel calcio mondiale degli anni 80, perché prima c'è stato Pelé, quindi penso che Maradona è l'unico calciatore al mondo che ti poteva fare vincere una partita da solo, un uomo squadra, un uomo che ha molto carisma, un trascinatore, è quello che ha bisogno, è quello che non è Messi, Messi nella nazionale non è un trascinatore, non è un uomo squadra, è un ottimo, un grandissimo calciatore, però non ha quel carisma che aveva Diego, che ti poteva fare vincere una partita da solo, che ti tirava fuori delle difficoltà che avevi, Messi è un giocatore che ti può inventare un'azione e 90 minuti, però ci sono anche dei minuti che si perde in un tocco palla o che cerca di saltare l'uomo e riesce a perdere molti palloni, come ha fatto a primo tempo la partita inaugurata dell'Argentina in questo mondiale. Maradona è diverso, è diverso perché è uno che non cerca solo l'individualità del calciatore, è un giocatore di squadra, è un giocatore che fa partecipare a tutte le squadre, anche Messi lo fa, però per me non posso paragonare a Messi, a Maradona, Maradona sicuramente è molto più forte. Un giudizio su queste prime ore di Silla Summer Camp, hai avuto l'opportunità di conoscere questi ragazzini, questa circa sessantina di ragazzi che è Salvatore Calaminici, la Silla Reggia, abbiamo poi Giuseppe Cimino che sentiremo dopo Pedro Pablo Pasculli, è iniziata domenica pomeriggio, oggi è martedì e si proseguirà per tutta la settimana, tu hai avuto l'opportunità e stai avendo l'opportunità di lavorare con questi ragazzi. Qual è la differenza tra i ragazzi di oggi e i ragazzi degli anni Ottanta? La differenza dei ragazzi di adesso, che magari adesso possono avere più cosa di prima, dei ragazzi degli anni Ottanta, non c'erano i cellulari, non c'erano i computer, le possibilità, le scarpe, ti mettevi quelli che ti compravano i tuoi genitori, adesso i ragazzi attuali, io c'è un ragazzo pure, dei 15 anni mio figlio, scelgono le scarpe, mi piacciono queste perché questo va di moda, magari prima avevamo più fame, avevamo più voglia di giocare a calcio, il divertimento, la voglia di fare, adesso c'è la voglia, soprattutto al sud, soprattutto delle parti nostre a Lecce, in Calabria, in Sicilia, in Puglia, vabbè, è quello il problema, che magari adesso hanno più del dovuto, diciamo, più cosa per il divertimento, prima c'era il pallone, noi potevamo giocare dalle 8 del mattino fino alle 8 del sera, adesso magari il cellulare, Facebook e questo e l'altro, le amiche vanno in piazza, escono, però adesso qui a San Giovanni mi sto trovando bene in questi paio di giorni, vedo dei ragazzi con tanta voglia, semplici, umili, che hanno voglia di imparare, hanno margine di miglioramento, si stanno divertendo, io cerco di insegnarli quello che magari mi hanno insegnato a me, quello che io, perché io ho iniziato come loro, così, in questi campi di calcio, scuola calcio, vedere, divertirmi, però era diverso, diverse costa, diciamo, venendo dall'Argentina, tanti problemi, però la passione, quella del calcio non l'ho perso mai, anche quando era piccolo, anche adesso, e mi fa piacere che questi ragazzi che stanno adesso con me, mi danno questa gioia, questa voglia che hanno dentro di imparare, è divertimento e mi fa molto piacere.